Buonasera cari interspettatori, benvenuti a questo spazio dedicato agli approfondimenti. Come spesso avviene in questo momento, lo faremo in ambito politico. Sappiamo tutti che abbiamo presto, in dirittura d'arrivo, le amministrative per la nostra città di Fano, come in altri comuni del nostro comprensorio e quindi noi spesso in questo spazio approfondiamo ed ospitiamo personaggi della scena politica che si andranno a impegnare per questa tornata elettorale. Ospitiamo due esponenti della nuova Fano, in modo particolare Gianluca Rossi, il segretario della lista civica, buonasera Gianluca, e il dottor Paolo Cesaroni, che fa parte della parte del direttivo della nuova Fano. Allora, viene spontaneo chiedere, visto che abbiamo avuto modo di capire, questa è una lista civica che ha molte componenti che fanno parte della società civile, che magari spesso non hanno avuto a che fare per niente con la politica e quindi viene da chiedersi subito il perché di questa scelta, lo faccio con Gianluca Rossi, insomma, oltre ad avere un incarico di segretario, penso che prima di arrivare a questo incarico ci sia stata una scelta di carattere personale e di impegno politico, come mai questa decisione? Allora, buonasera, devo fare due passi indietro perché purtroppo io sono un neofita di politica e quindi per raggiungere dove fino ad ora sono arrivato, devo praticamente spiegare, io seguivo Pollegioni, così, dalla stampa, seguivo sul social, interveniva su argomentazioni e vedevo... Ricordiamo per quelli che così magari non lo sanno che Stefano Pollegioni è colui che ha fondato prima l'associazione e poi adesso la lista civica che, insomma, siete arrivati a diventare un'istica civica. Seguivo proprio Pollegioni con interesse perché secondo me aveva delle idee chiare su come trattare il problema del territorio e piano piano seguendolo così e parlando con un amico ho avuto modo di incontrarlo e di parlarci, mi ha detto perché non partecipi una sera a una delle nostre riunioni? Ho detto va bene Stefano, così almeno posso vedere e posso anche interagire con te per alcune problematiche problematiche e da lì è partita una collaborazione e di conseguenza un'amicizia che adesso sta sfociando in un qualcosa di molto 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 interessante. Ecco, la nuova Fano è proprio questo, un insieme di persone, di amici che trattano argomentazioni che servono alla cittadinanza, però quello che noi chiediamo soprattutto alla città è che i cittadini interagiscono con noi perché per avere le idee nuove, per avere le problematiche sotto mano non è che noi dalla mattina alla sera riusciamo a girare Fano in lungo e in largo e capire, prendere appunti, no, non gliela faremo. Quindi chiediamo proprio ai cittadini di interagire con noi, di telefonarci, di scriverci sui social network, sul nostro sito asnuovafano.it e farci capire dove le problematiche stanno. Con questo noi elaboriamo, verifichiamo, ci riuniamo con anche esperti del settore perché non è che ognuno di noi è imparato perché imparato non nasce nessuno e con le competenze che abbiamo ognuno di noi riusciamo a risolvere i problemi. Quindi esperienza personale e di vita professionale lavorativa che mettete a disposizione le vostre competenze, le mettete sul piatto per fare da interlocutori con i cittadini che devono essere però stimolati a interrogarvi e a stimolarvi per conoscere i veri problemi. Insomma, penso che sia la stessa cosa anche per lei, dottor Cesaroni. Lei opera in ambito sanitario, quindi ognuno di voi ha il proprio campo elettivo. Immagino che anche per lei valga una scelta di carattere emotivo personale. Sì, diciamo che la cosa è scattata sull'onda di una stanchezza che oramai io, come tanti miei colleghi e tanti miei collaboratori che lavoriamo dentro l'ospedale da tanti anni, oramai abbiamo verso queste politiche di austerità che da 25 anni ci stanno martoriando perché costantemente ci troviamo a che fare con cercare di esaudire una richiesta crescente di prestazioni sanitarie con personale che è diventato anno dopo anno sempre più depauperato, insomma, sempre meno e sicuramente meno congruo rispetto a quello che in realtà sarebbe necessario. Quindi su questo terreno, che già quindi era un terreno di stanchezza, si sono poi insinuate altre constatazioni come quella dell'amara constatazione che attualmente i giovani con le loro difficoltà a trovare lavoro, ma soprattutto trovare dei lavori che diano delle prospettive a medio-lungo termine, comportano mi ha fatto proprio, diciamo, scattare questa volontà di in qualche modo schierarmi, ecco. Che già la volontà di schierarsi è una grande volontà, già per il coraggio di farlo è una bella presa di coscienza e come tutti quanti voi immagino volete e avete nell'intenzione quella di essere parte attiva nella società, ma come si mettono a disposizione le competenze nella propria città? Insomma, che cos'è per quello che riguarda lei Rossi la sua visione, la sua visione di cosa non va in città, tanto per ritornare sul titolo di una canzone. Sì, esatto. Per quanto riguarda la mia competenza, 34 anni nelle infrastrutture, qualcosa diciamo con il tempo l'ho imparato, tra virgolette. Quindi girando un po' per la città, vedendo un po' i nuovi lavori fatti e ti accorgi che Fano deve essere rivalutata anche infrastrutturalmente. Ultimamente c'è stata la bretella che ha catalizzato l'attenzione di molti. Infatti con la bretella abbiamo dovuto fare uno studio approfondito, perché prima ci sono state delle segnalazioni di cittadini, ci si è arrecati sul posto, abbiamo prima verificato, perché chiaramente tutte le cose che devono essere fatte devono essere prima verificate, poi studiate, poi affrontate e di conseguenza ristudiate, rivalutate, quindi c'è un lavoro dietro che, insomma, quant'è la fine, ti porta via del tempo. E infatti la segnalazione di alcuni cittadini di Sant'Orso ci hanno messo un attimino la pulce all'orecchio. Abbiamo fatto un giro sul posto, io poi da Marpione che sono e l'occhio mi ci va proprio subito e mi sono accorto che ci sono state molte mancanze costruttive. Adesso qualcuno qui si arrabbierà, ma pazienza. Però se nel tempo, quindi ci sono stati quasi dieci anni per rivalutare tutta questa situazione. Da un progetto preliminare a un progetto definitivo, a un progetto esecutivo, si potevano fare tante varianti in corso d'opera, seguire le norme costruttive delle strade, si poteva guardare il codice della strada e le sue applicazioni e quindi non si intercorreva in una situazione come la bretella, che ha delle mancanze, fossi di guardia, una ciclabile che gli passa a fianco, le barriere fonoassorbenti fatte in quel modo lì, lo scarico delle acque, una cosa importantissima per una strada di categoria C extraurbana, dove si presentano dei tombini in ferro quasi in mezzo alla strada. Una cosa mai vista. All'epoca romana, vent'anni fa, trent'anni fa, venivano fatte le strade in questo modo qui, non adesso. Infatti la norma geometrica per la costruzione delle strade, se uno la va a leggere, parla diversamente. Comunque, noi siamo usciti più volte nella stampa, abbiamo fatto un servizio anche con Fano TV, però non abbiamo avuto risposta, al che dopo l'ultimo intervento stampa che abbiamo fatto, abbiamo scritto al Ministro Toninelli, gli abbiamo inviato una PEC, gli abbiamo inviato un'e-mail e gli abbiamo mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno. Adesso tendiamo risposta, vediamo un po'. Questo è quello che facciamo noi nella lista civica nuova fa, anzi nell'associazione, perché la lista civica è nata successivamente. Un'emanazione. Esatto. È stato detto che le varianti in corso d'opera costano, questa è stata una… Le varianti in corso d'opera costano tutte, però secondo l'assessore Fanesi aspettiamo di prendere in carico la strada, per declassarla e poi ci interveniamo. Allora, questo qui, quanto costerà i cittadini fanesi? Lasciamo il quesito aperto. Allora, Dottor Cesaroni, il tema sanità, il tema sanitario, ospedale unico, clinica privata, insomma è un tema centrale della Nuova Fano, affrontato più volte, affrontato in maniere anche diverse, che cosa possiamo dire a questo riguardo? Io vorrei sottolineare, vorrei partire per fare una valutazione anche della situazione attuale, partendo da due presupposti fondamentali, cioè innanzitutto che cosa dovrebbe avere una sanità provinciale adeguata, giusta? E allora cominciamo col dire che una sanità adeguata e giusta deve assolutamente avere un sistema capillarizzato di pronti soccorsi e di servizi diagnostici, in seconda battuta, quindi diciamo in una diffusione un pochino più ristretta, una serie di reparti medici e poi in un ambito ancora più ristretto, perché ovviamente bisogna anche rispettare una, come dire, una casistica, reparti chirurgici. Quindi questa è una regola secondo me imprescindibile per poter avere su un territorio, perché noi possiamo prendere in considerazione la provincia, la regione, la nazione, cioè su un territorio diciamo che questa dovrebbe essere la scaletta da seguire. E questo è il primo presupposto su cui costruire, partendo da questi presupposti possiamo costruire anche molti progetti di sanità territoriale. Il secondo criterio è che anche però nella costruzione di un progetto bisogna anche tenere conto di avere una tempistica, una modalità di costruzione corretta, nel senso che proprio per quello che abbiamo detto prima non possiamo mai prescindere dal conservare dei pronti soccorsi territorialmente diffusi, come anche dei servizi diagnostici, non possiamo prescindere da reparti medici che siano comunque diffusi sul territorio, possiamo pensare ad accentrare le chirurgie, ma fondamentalmente l'emergenza urgenza e i servizi medici vanno assolutamente userati. Questo per qualunque tipologia di organizzazione sanitaria che debba essere fatta sul territorio. Mi sembra che quello che sta succedendo, che negli ultimi 25 anni è stato lentamente messo in atto, è esattamente l'opposto. Cioè noi ci siamo trovati di fronte ad un depauperamento progressivo degli stanziamenti in sanità, ad una riduzione progressiva dell'offerta sanitaria sul territorio e a un tendenziale accentramento delle strutture sanitarie, praticamente chiusura delle strutture sanitarie periferiche per accentrarle. Il motivo di questa cosa ovviamente, per uno che lavora in sanità come me, è uno solo, cioè il risparmio, cioè austerità, perché poi alla fine il male di tutti i servizi pubblici essenziali da 25 anni a questa parte è l'austerità. Quindi io chiaramente da medico non posso che schierarmi contro l'austerità. È un discorso ovviamente di filosofia generale, ma mi sembra che per me sia doveroso. Per chi lo vive tutti i giorni sulla propria pelle, che ha a che fare e trovarsi a metà del guado tra i pazienti, è sicuramente un'esperienza quotidiana che deriva da queste considerazioni. Allora adesso, come ho fatto in apertura, faccio la stessa domanda in chiusura a tutte e due. Insomma, perché appoggiare la nuova Fano in questa competizione elettorale? Perché sposare i vostri principi, le vostre idee? Insomma, lo chiedo a Gianluca Rossi in primis. Noi siamo una lista nuova, siamo gente nuova, siamo gente che praticamente non ha mai visto nessuno, praticamente siamo degli sconosciuti, tra virgolette. E quindi possiamo lanciare, possiamo far passare un messaggio di innovazione. E questa innovazione, grazie a queste persone che abbiamo intorno, possono fare delle ottime cose, ma ottime nel vero senso della parola, perché non lasciamo nulla al caso. Cerchiamo sempre di andare a approfondire qualsiasi problematica e in più con il nostro fondatore Stefano Pollegioni riusciamo sempre a interagire e ci troviamo quasi due volte alla settimana, ci riuniamo, proprio per dar modo di portare un messaggio bello alle persone e alla città. Perché quello che noi vogliamo è riportare Fano come terza città delle Marche. A riguadagnare il posto che merita. Allora dottore, la domanda è indiretta, però chiaramente mi viene spontaneo fare due considerazioni sul fatto che lei è un operatore sanitario, quindi la sanità è sia da pannaggio regionale, per le dinamiche che tutti conosciamo, però secondo voi anche a livello locale si può incidere? Voi ritenete che si possa incidere? Certamente, perché, allora, volevo un pochino ritornare un attimo indietro. Rifiutare le politiche di austerità significa cambiare una filosofia fondamentale che c'è sempre stata da 25 anni, cioè prima tagliare e poi forse creare qualcosa. Ecco, qui bisogna ribaltare questo discorso, cioè prima creare qualcosa e poi forse tagliare. In pratica, finché non si realizza qualcosa di nuovo, secondo il mio punto di vista, anche da medico, per questioni anche deontologiche, cioè non possiamo ridurre un'offerta sanitaria su un territorio di qualunque tipo, comunale, provinciale, regionale. Allora, nel momento in cui mi si dice, mi si prospetta che un ospedale pubblico su una città di 60 mila abitanti verrà chiuso per essere sostituito da una struttura privata, sinceramente mi scattano molti dubbi, perché poi alla fine questo è. Innanzitutto perché questa struttura privata avrebbe comunque finanziata da soldi pubblici, e allora per uno che lavora dentro il pubblico automaticamente dice, ma perché quei soldi che voi date al privato non provate a investirli direttamente nel pubblico e a potenziare il pubblico? Quindi appoggiare una lista civica e appoggiare la Lucia Tarsi in questa situazione serve proprio per resistere, per resistere a queste politiche di austerità, resistere alla chiusura di un ospedale pubblico su una città di 60 mila abitanti, per sostituirla con una struttura privata. Non che il privato debba essere demonizzato, sia ben chiaro, perché ci sono prestazioni sanitarie che ovviamente possono essere erogate dal privato, ma in maniera integrativa a un'offerta pubblica che comunque deve riguardare quei settori e quelle prestazioni che profitto difficilmente lo possono dare. E guarda caso quali sono, sono, io dico sempre, quelle prestazioni che vanno a incidere sulle famose 4 o 5 cause di morte che sono sempre le stesse da sempre, e che automaticamente sono, guarda caso, l'emergenza urgenza, che sono il settore oncologico, la rianimazione per esempio, cioè tutti i servizi che ovviamente difficilmente a un privato danno profitto, ma che a quel punto devono essere erogate dal pubblico nella maniera più ampia e capillarizzata possibile. Ecco, questo è il concetto. Benissimo, allora, molto chiaro il pensiero sia in ambito infrastrutturale che anche in ambito sanitario di Gianluca Rossi, segretario della lista civica Nuova Fano e dal dottor Paolo Cesaroni del direttivo della stessa lista civica. Abbiamo ospitato due componenti di questa nuova compagine politica della città di Fano che parteciperà alla competizione politica del maggio prossimo per le amministrative appoggiando la candidatura di Lucia Tarsi a sindaco della città di Fano. Bene, grazie per essere stati ospiti in questo spazio, grazie, buon lavoro, ne avete tanto da fare e quindi io non posso far altro che ringraziarvi per la vostra attenzione, essere stati in nostra compagnia. Grazie e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Buonasera. 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 Grazie a tutti.